Benvenuti ancora su evancello.tv e vogliamo fermarci ancora quest'oggi a meditare la parola di Dio, l'Evangelo, la buona notizia che porta pace, gioia e prima di ogni altra cosa, vita eterna in quanti lo cercano. Voglio leggere ancora nell'Evangelo di Luca, capitolo 10, dal verso 38. Mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ricevette in casa sua. Marta aveva una sorella chiamata Maria, la quale, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola. Ma Marta, tutta presa dalle faccende domestiche, venne e disse Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore, Gesù, le rispose Marta, Marta, tu ti affanni e sei agitata per molte cose, ma una cosa sola è necessaria. Maria ha scelto la parte buona che non le sarà tolta. E' bello vedere che Gesù aveva certamente un calendario bello, fitto, di predicazioni, di persone che doveva aiutare, guarire, liberare, di popoli interi che avevano bisogno di ricevere il messaggio di vita, il messaggio di salvezza. Ma Gesù trova il tempo per andare a trovare i Suoi amici, per andare a casa di Marta, per fermarsi a pranzo con loro, per parlargli ancora, per dargli ancora qualche lezione importante per la loro vita, per la vita eterna. Ma Marta, eccola, mentre riceve Gesù, immagino subito dopo i saluti, incomincia ad affacentarsi per tante cose, al punto tale che trova così quasi, è infastidita, trova disagio davanti a Maria che si ferma ad ascoltare quello che Gesù ha da dire, ad ascoltare l'insegnamento di Gesù. Sì, Gesù trova il tempo per Marta, ma Marta non ha tempo per Gesù. Marta è così impegnata nelle sue cose che non può fermarsi ad ascoltare quello che Gesù ha da dire alla sua vita, mentre Maria si ferma e si gode quei momenti di ascolto, mentre Gesù ha qualcosa da dare alla sua vita, in modo personale. Ecco che vediamo Marta perciò in affanno, in difficoltà, la vediamo agitata, la vediamo come ha questi rapporti tesi con sua sorella e se la prende anche con Gesù. Questa è l'espressione di quanti non trovano il tempo per ascoltare, o hanno difficoltà, hanno affanni, hanno veramente agitazione, perdono quella che il Signore è venuto a darci, la pace. Perdono la pace nelle loro relazioni, perdono la pace nel loro cuore. Tutto diventa un affanno, non si fermano. Il mondo intorno a noi ci porta proprio a questo, a non fermarci a riflettere su dove passeremo l'eternità. Gesù, a ogni giorno, se ci soffermiamo sulla parola di Dio, se rivolgiamo il nostro pensiero a Dio, a ogni giorno qualcosa da dirci, a ogni giorno qualcosa da donare, da donarci, o perché possiamo raggiungere pace, gioia e possiamo soprattutto realizzare vita eterna. Gesù dice a Marta, 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 ti affanni, sei affannata e sei agitata per molte cose, ma c'è una cosa necessaria, una cosa che veramente hai bisogno. Noi abbiamo un'idea particolare dei nostri bisogni. Sì, c'è bisogno di realizzarsi, c'è bisogno di più soldi, c'è bisogno di mantenere un corpo sano, perciò tante attività, c'è bisogno di giuste relazioni, c'è bisogno di avere un bell'aspetto. Quanto tempo dedichiamo a tutte queste cose? E Gesù invece dice che ci sono altri bisogni, altre necessità. Gesù, oh, non dice a Marta, stai peccando, oh, sei veramente venuta meno in tutti i tuoi doveri. Gesù dice c'è qualcosa di più necessario, c'è qualcosa di veramente importante. Non troviamo nella parola di Dio che chi si dona tante cose, tante soddisfazioni, oh, non avrà gioia, non avrà prosperità, non avrà veramente soddisfazione nell'animo. O dice la parola di Dio, se guadagni tutto il mondo e perdi l'anima tua, allora che cosa hai realizzato? Non dice che non sarai felice apparentemente per un tempo sulla terra, ma poi che cosa ti troverai? Marta, l'appello che il Signore rivolge non solo a Marta, ma a me e a te, ancora questo giorno Gesù. Marta, ti stai affannando per tante cose e stai trascurando. La cosa più importante, cercare un incontro personale con Gesù. Dio benedica la tua vita.